a tutti ragazzi io sono Alfio Zappala e oggi siamo in un nuovo video in questo nuovo video vi spiego cosa fare quando la vostra sim non funziona e vi ritrovate in questa situazione iniziamo allora ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo video vi spiego cosa bisogna fare quando la sim non funziona ci sono due cause il primo è che la vostra sim non funziona la rete del vostro operatore quindi non dipende da voi può durare alcuni minuti in questi casi oppure la seconda opzione è che avete messo male la sim all'interno del vostro telefonino ma andiamo con ordine la prima situazione non funziona la sim se non funziona la sim perché la rete del vostro operatore non funziona dovete solo aspettare che torni la rete 4G e vedrete che tornerà a funzionare la seconda ipotesi è che avete messo male la sim se mettete male la sim nel vostro telefono questa non funzionerà mai bene ragazzi con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche e noi ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao